Kowalski, comunica agli scimpanzei di raggiungerci al punto d'incontro con il superaereo. Hotel Ambassador, muoviamoci! Sì! Voilà, giraffa oré d'odici. Ragazzi, ci stanno inseguendo! Apparazzi! A tutta birra, soldato! Non scattate fotografie, per favore! Ciao! Sono qui! Non scattate fotografie! Basta fotografie! Un medico! Quanto manca al punto d'incontro? Due minuti e trentasette secondi, signore. Ai posti di combattimento! Ehi, aspetta! Non c'è nessuno al volante! Torna subito qui! Negativo sul conducente! Non c'è il conducente! Non c'è nessuno alla guida! Oh no! Voleremo tutti! Non restare l'impalato per l'imbusto! Afferra il volante! Puoi scherzare? Io non guido! Sono new yorkese! Fatti da parte, Daisy! Che stai facendo? Le zebra non possono guidare! Solo gli umani pinguini possono guidare! A che servono questi puntanti? Aiutatemi! Val colpo! Strisse! La pazza ci sta raggiungendo! La nostra chiazza di Omega 3 li metterà fuori uso! Soldato, attivare! Quella è in gamba! Kowalski ragguagliami! Signore, abbiamo un problema serio! Si chiama Capitain Chantal Dubois! Accalappiatore! Stato di servizio perfetto! Stai andando contro mano Marti! Chiamami Martio Andretti! No, tu sei schifio Andretti! Smettile di criticare la mia guida! Io critico quanto mi pare e voglio... Dammi il volante! No, mi ci sono affezionato! I pezzocoli non sono fatti per afferrare un volante! Troppo tardi perché guidi tu! Non guardare me! Non guardare me quando discutiamo! Guarda la strada! Tranquillo, tranquillo! Salve, adiente! C'è qualche problema? Salve! Attenti! Ci serve più potenza! È arrivato il momento di accendere il reattore nucleare di Kowalski! Quello è un reattore nucleare? Nucleare! È sul tetto! Ma non è pronto, signore! Le barre di controllo vanno calibrate e poi c'è il mantello di uranio 238! Va bene! Va bene, Marty! L'abbiamo seminata! Forse adesso puoi rallentare un po'! Non posso! Non ci sono i freni! Niente freni? Beh, ne hai di fegato, soldato! Recetemi! Non ci sono i freni!